Questa ricerca riguarda il settore dell'editoria digitale scolastica. Il focus della ricerca si è concentrato sulla sperimentazione di prototipi digitali basati sul paradigma educativo del design for all. L'attività di ricerca è stata soddivisa in varie sezioni. Da un lato lo studio dei nuovi bisogni del mercato di teorello scolastico. Poi l'attività di studio e ricognizione su testi e materiali scolastici già existenti. Attività di action research, colloqui con esperti e figure chiave nell'ambito BESS. La prototipazione di prodotti educational design for all. Il testing e la produzione di materiali iconografici di vario tipo. E infine le strategie di web marketing e co-marketing per la divulgazione dei prodotti digitali. La metodologia di ricerca che è stata utilizzata è stata prevalentemente qualitativa, ispirata ancora una volta al paradigma del design for all. Secondo questo principio sono stati analizzati i prodotti di editoria tradizionale e sono stati realizzati e testati nuovi prototipi di prodotto in grado di coinvolgere bambini e ragazzi con e senza bisogni educativi speciali in chiave inclusiva. Esplorando cioè le potenzialità del digitale come ambiente flessibile per la creazione di contenuti idoni a diverse categorie di utenti. A conclusione di questo percorso di ricerca, i risultati ottenuti sono stati da un lato la prototipazione e il testing di nuovi prodotti design for all tra cui illustrazioni, impaginati, applicazioni digitali e animazioni. L'innovazione di prodotto per la scolastica. La stesura di linea guida per la progettazione di materiali iconografici di supporto alla didattica per ragazzi con bisogni educativi speciali. E infine la stesura di linea guida sull'accessibilità per la realizzazione di un prodotto digitale educational. Grazie a tutti.